Da dove devo iniziare? Fino a dove scorre questo fiume? Di dove sei? Dove? Dove stanno andando? Da quando? Da quando vivi in Italia? Fino a quando? Fino a quando resterai? Entro quando? Entro quando dobbiamo fare i compiti? Su chi? Su chi scrivono? Per chi? Per chi è la rosa? Con chi? Con chi sono? A chi? A chi telefoni? Di chi? Di chi è questo? Contro chi? Contro chi giocano oggi? Su cosa? Di cosa? Su cosa discuti? Di cosa parli? Con cosa? Di cosa? Con cosa è fatta questa torta? Contro chi è la torta? Di cosa è fatta questa torta? Per cosa? Per cosa vuoi questo? Contro chi? Grazie a tutti.